Eccoci qua, buonasera, il telegiornale partirà ancora con quello che è diventato il caso di prima grandezza sulla scena politica italiana, il caso, chiamiamolo così, De Bortoli, Boschi, Ghizzoni, Banca Etruria. La storia la sapete da ieri, che non si parla che di questo, il libro di De Bortoli, il riferimento a una visita o a un incontro comunque del Boschi, allora ministro delle riforme, a Ghizzoni, allora numero uno di Unicredit, per chiedere un aiuto su Banca Etruria. Il contrario di quello che la Boschi pochi mesi dopo avrebbe assicurato in Parlamento, cioè di non essersi mai occupata della banca in cui il padre aveva un ruolo di rappresentanza. La Boschi ieri e ancora oggi ha sventito, De Bortoli ieri e ancora oggi ha confermato, dicendo anche delle cose in più che mettono più a fuoco quello che è il suo racconto, ma l'unico di cui si attendeva da ieri la testimonianza non ha ancora parlato, cioè quel Ghizzoni che è ormai ex capo operativo, amministratore delegato di Unicredit che con il suo silenzio alimenta, come dire, tutte e due le fazioni, è tace e quindi acconsente, è tace e quindi è in imbarazzo, non vuole smentire il racconto di De Bortoli. Ma la verità è vera e che non siamo di fronte a un processo e quindi in ogni caso tutte le fazioni, tutte le posizioni sono in campo in quello che è l'ennesimo scontro poi tra maggioranza e opposizione. Come vedremo, vi racconteremo tutto, ma andremo poi a parlare anche dell'altra questione che oppone sempre, soprattutto gli stessi protagonisti, PD e 5 Stelle, a ruoli invertiti magari perché si parla della questione rifiuti di Roma dove si è creato di fatto, si è originato di fatto un caso nazionale, anzi di più internazionale, oggi arriva addirittura l'attacco del New York Times, ma la questione, che è comunque una questione di immondizia e non è per fortuna sui livelli di quella drammatica emergenza che conobbe Napoli una decina di anni fa. La questione, dicevo, è tutta appoggiata su polemiche che sono forti anche perché i due partiti vedono non lontano, come si sa, l'obiettivo del voto decisivo che deciderà chi sarà maggioranza e chi opposizione tra di loro. Ma vedremo anche che però i problemi di Roma magari sono anche altri, come testimonia la tragedia avvenuta questa notte. Un camper con più di dieci persone, di un'intera famiglia rom, fatto bersaglio di un lancio di bomba Molotov, il rogo due bambine e una ragazza uccise dalle fiamme. A quanto pare, escluso il movente raziale, il movente xenofobo, si tratta di una vendetta tra clan, si tratta purtroppo di una bruttissima vicenda su cui ci sono state numerose prese di posizione istituzionali e politiche. Ma vedremo anche che si discute della legge elettorale, mentre appunto i litiganti discutono e se le danno di santa ragione su tutto, sulla legge elettorale si registrano anche oggi dei passi avanti. Non potremo non trattare la clamorosa vicenda di Washington, quando era mezzanotte in Italia, Trump ha assilurato improvvisamente il numero uno dell'FBI, Comey. Il fatto è che, come si è saputo ancora più positivamente poco fa, Comey aveva chiesto ulteriori uomini e mezzi per indagare sul cosiddetto Russiagate, l'aiutino che sarebbe stato dato da Mosca all'elezione di Trump. E proprio oggi a Washington, ospite di Trump, chi c'era? Il ministro degli esteri russo. E poi ci sono novità anche sulla vicenda ONG migranti, ma lo capirete tra poco anche dai titoli. Sempre più accesa la polemica sul caso Boschi-Bancatruria. La sottosegretaria presidenza del Consiglio minaccia Querele per quel che è scritto nel libro di De Bortoli riguardo a un suo intervento presso l'allora numero uno di Unicredit per salvare l'istituto di credito toscano. La misura è colma, se ne occuperanno i miei legali, minaccia la Boschi. Sono sicuro delle mie fonti, replica l'ex direttore del Corriere della Sera. Ma chi dovrebbe parlare continua a tacere, cioè Ghizzoni, quel numero uno di allora di Unicredit. Anche il New York Times pone l'accento sul degrado, sulla situazione dei rifiuti a Roma, sullo sfondo dell'ennesima lite tra P10 e 5 Stelle. La Raggi annuncia una task force, stiamo lavorando per evitare i cassonetti pieni. Insiste nel braccio di ferro col governatore del Lazio, Zingaretti, del PD, chiedendogli di sbloccare le autorizzazioni per gli impianti. Non c'è giunta nessuna richiesta al Comune, fanno sapere dalla regione. Ma i problemi di Roma sono anche altri. Incendiato nella notte un camper popolato da una famiglia Rom nel Rogo. Sono morte tre sorelle di 5, 11, 20 anni che vivevano insieme altre otto persone dentro al camper. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo mentre lancia una Molotov e poi fugge. Si indaga per omicidio volontario con ipotesi di vendetta escluso il movente razziale. Donald Trump spiega il licenziamento di James Comey, il numero uno dell'FBI. Non stava facendo un buon lavoro, dice. Ma Comey, poco prima di essere defenestrato, con sei anni di anticipo, aveva chiesto fondi per indagare sul Russiagate, sui presunti legami tra Mosca e alcuni responsabili della campagna elettorale di Trump. Sul soccorso in mare dei migranti da parte delle organizzazioni non governative, la procura di Trapani specifica. L'inchiesta non coinvolge le organizzazioni non governative come tali, ma singole persone che lavorano all'interno di esse. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le parole del procuratore di Trapani in audizione davanti alla Commissione Difesa del Senato. Allora, buonasera, inchiesta Banca Etruria bis, secondo giorno, sia Maria Elena Boschi, sia Ferruccio De Bortoli restano sulle loro posizioni. Le precisano, le rendono ancora più nette, ma la contraposizione è assoluta. È vero, non è vero. Il problema è che l'unico che potrebbe confermare o negare che ci sia stato quell'incontro con la richiesta di aiuto per la Banca Toscana, l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, continua invece a tacere. Ed è ormai un giorno e mezzo che lo fa. In qualche modo, prima o poi, dovremo sentire la sua versione. Dei tre attori del caso che fa tremare il governo, l'unico che resta ancora tra le quinte è Federico Ghizzoni, l'allora amministratore delegato di Unicredit, sul quale sarebbero arrivate le presunte richieste per l'acquisizione di Banca Etruria da Maria Elena Bosti quando era ministro delle riforme, come raccontato nel libro Poteri Forti o quasi appena uscito dell'ex direttore del Corriere, Ferruccio De Bortoli. Sulla scena oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che dopo il post di ieri su Facebook, smentisce in toto anche a voce quanto scritto a pagina 209 del libro, e lo fa non a caso da Palazzo Chigi a significare la copertura del governo sulla sua posizione. E ribadisco, confermo quanto detto in Parlamento rispetto alla vicenda, credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti. Nel pomeriggio, a margine della presentazione del suo libro, parla anche De Bortoli. Il direttore, sicuro dell'affidabilità delle sue fonti, sottolinea che nel libro non ha mai parlato di pressioni da parte della Boschi su Ghizzoni e che anzi un politico debba preoccuparsi per una banca in crisi del suo territorio, ma poi specifica. Un conto è preoccuparsi e un conto ingerire o fare delle pressioni in debite. Cosa pensa del fatto che la Commissione Finanza e la Camera potrebbe chiamare in audizione Ghizzoni? No, lo so. Vedremo gli sviluppi politici. De Bortoli dice di non sapere se le richieste della Boschi siano arrivate prima o dopo il salvataggio di Banca Etruria, ma che erano sicuramente in evidente conflitto di interesse. Che Unicredit abbia valutato se acquisire o meno Etruria, decidendo poi di non farlo, è stato anche dichiarato in una nota stampa dalla stessa Unicredit, dicendo che non c'erano state pressioni politiche. Infine, De Bortoli, sull'eventuale querela, in arrivo, risponde così. Sono un collezionista di querele da questo punto di vista, per cui una e più una meno non cambia. Mi auguro che naturalmente non sia solo un annuncio, ma una querela effettiva. Maria Elena Boschi fa sapere che saranno l'ex ministro della giustizia nel governo Monti, Paola Severino, e il professor Vincenzo Zenogovic a difenderla, senza però specificare se la querela riguarderà l'ex direttore del Corriere o i Cinque Stelle che da ieri ne chiedono le dimissioni. Severino e Zeno Zenogovic, due figure importanti del diritto. Evidentemente la Boschi gioca le sue carte sulla reputazione, la stessa cosa che fa De Bortoli. Nessuno mette in discussione ciò che scrive l'ex direttore del Corriere della Sera. Ma bisogna capire, però, essendo sicuro che la confidenza su quell'incontro gli è stata fatta da Ghizzoni, come, quando, in che circostanze, con quali esiti c'è stato l'incontro con la Boschi. Sinché non parla è lui, ci sarà sicuramente questa scia di polemiche continue, questa doppia versione in campo. Ma intanto la politica ne ha abbastanza per uno scontro durissimo. Anche Unicredit ha smentito tutto. Si tratta di una bufala montata dal Movimento Cinque Stelle per nascondere le sue disgrazie. Le disgrazie di Roma, le disgrazie delle firme false al Palermo e degli scandali di Palermo. Sul nuovo caso Boschi, la linea difensiva del Partito Democratico è quella dichiarata in tempo per i Tg di ora di pranzo dal capogruppo alla Camera Rosato. Derubricare la vicenda bufala, l'ennesimo attacco politico dei Cinque Stelle, tenerla bassa. I ministri del governo Gentiloni, in transatlantico alla Camera, non rispondono a domande sul caso. Il fatto che la sottosegretaria parli a mezzogiorno in sala stampa di Parazzocchigi vuol dire che il governo è tutto con lei, si dice. Solo Enrico Costa, il ministro degli affari regionali di Alternativa Popolare, dichiara vicinanza e solidarietà a Maria Elena Boschi, vittima di attacchi sbagliati, infondati e ingenerosi per indebolire l'esecutivo, il suo timore e la sua lettura. Per il resto, trappela imbarazzo e appunto la speranza che tutto si riveli rapidamente, una bolla mediatica. Chi soffia sul fuoco sono invece Cinque Stelle, conferenza stampa a Montecitorio e parole durissime. Boschi, bugiarda, PD traditore del risparmio, arroganza al potere, conflitto di interessi, peggio di Berlusconi. E' una bugiarda cronica, Gentiloni che ci deve mettere la faccia. E basta, Gentiloni deve battere un colpo. Non è che può fare il verginello, immacolato, che non dice nulla, deve parlare. Il sottosegretario Boschi è il sottosegretario del suo governo. Il lorenzismo è tramontato con lo scandalo banca, aggiunge Di Battista. Noi batteremo il ferro in campagna elettorale, non essendo ministro, niente emozione di sfiducia, ma informativa urgente del governo, con la richiesta al Premier di togliere le deleghe alla sottosegretaria, mozione di censura. Ci stanno gli ex PD del Movimento Democratico e Progressisti. Senza chiarezza, Boschi si deve dimettere, sentenze Pierluigi Bersani. Senza un chiarimento vero, innanzitutto parlamentare, sul caso Banca Etruria, la sottosegretaria Boschi dovrebbe fare un passo indietro. Salvini va giù duro, come al solito, mi fido di De Bortoli e non di lei. Boschi è impresentabile, cambi vita. Forza Italia si dichiara come sempre garantista, ma apprezzerebbe le dimissioni. Visto il pasticcio che hanno creato quel governo intorno a quelle banche, con le perdite per i risparmiatori, la perdita di credibilità del sistema bancario, io credo che si dovrebbero dimettere ben oltre la Boschi. E poi, come abbiamo visto ieri, ci sono gli altri fronti di lotta diretta tra 5 Stelle e PD. A cominciare, come sempre, da Roma. C'è immondizia praticamente ovunque a Roma, dove le autorità continuano a promettere senza successo di tenere il problema sotto controllo. Il degrado di Roma non è una novità, ma è probabilmente peggiore del solito ed anche più demoralizzante che mai. Rifiuti Roma fase 3 ed il problema si fa glocal, perché ora ci si mette anche il New York Times con un editoriale intitolato La sporca metafora di Roma e corredato di immagine con Colosseo arretrato in secondo piano. Che da New York si occupino della capitale e dei suoi vizi non è una novità. Successe anche nel 2015 con Marino in un articolo in cui ci si chiedeva se fosse capace, ma ora l'effetto è quello classico del sale su una ferita intorno alla quale ci si accapiglia già da qualche giorno a più livelli. Anche se il dibattito italiano non è che faccia un gran salto di qualità. Per i detrattori più accaniti, quelli del PD, l'articolo diventa automaticamente una prova. Purtroppo il New York Times ha ragione, dice Pedica. Dopo quasi un anno dalla sua elezione, la sindaca non ha fatto nulla di quanto aveva promesso e la città è tra i rifiuti. La giunta Raggi con il disastro di rifiuti sta offrendo un'immagine pessima della capitale e gli fa eco esposito. Che i rifiuti siano vergognosi e che i cittadini abbiano ragione, per la verità lo dice anche la Raggi, solo che lei va più in là, assicura che entro una settimana la situazione sarà normalizzata e insiste sul braccio di ferro ingaggiato con la Regione e con il suo presidente Zingaretti. Lei sostiene che gli impianti attuali sono insufficienti di aver già scelto i siti per altri tre e che spetta alla Regione ampliare gli attuali e adottare un piano regionale. È la Regione Lazio che ribadisce da parte sua la posizione. Nessuna richiesta di autorizzazione per nuovi impianti è arrivata da Campidoglio. Fanno sapere qualcuno spieghi a quali impianti il sindaco Raggi si riferisce. Il sostegno di giornata alla sindaca arriva dai capigruppo 5 Stelle alla Camera e Senato Roberto Fico e Carlo Martelli ricordando il piano presentato dal Comune unendosi a lei nelle richieste alla Regione. Il fatto è che la partenza del piano è prevista per il 2021 e nel frattempo c'è da gestire una fase di transizione che si annuncia né breve né semplice. Questa è la vicenda che riguarda Roma rifiuti, gonfiata, no, decidete voi soprattutto se siete a Roma o Roma la conoscete in questi ultimi tempi. Quello che è sicuro è che i problemi sono altri ci sono altri problemi nella capitale e ce n'è uno che è esploso in maniera drammatica, tragica questa notte con un fatto di cronaca che probabilmente si delimita nel perimetro di rivalità tra clan diversi nella comunità Rom ma non per questo è meno grave. Quando i soccorsi sono arrivati le fiamme erano già alte quel camper neppure si vedeva più non è ancora alba quando a cento celle periferia est di Roma qualcuno dal palazzo di fronte al grande parcheggio di un supermercato lancia l'allarme i vigili del fuoco impiegano parecchio tempo a spegnere l'incendio e questo è quello che resta di quel camper fermo da qualche giorno lì stanotte ci stavano dormendo in 13 un'intera famiglia a Roma 11 figli e genitori sorpresi dal fuoco nel sonno neppure hanno avuto il tempo di capire quello che stava succedendo sono scappati come potevano ma due bambine Elisabeth e Francesca 4 e 8 anni e Angelica che di anni ne aveva 18 sono rimaste intrappolate i magistrati subito dopo aver acquisito i primi elementi escludono in modo chiaro che si sia trattato di un incidente i reati ipotizzati sono omicidio volontario e ruogo doloso vicino al camper sono state trovate tracce di liquido infiammabile e un tappo di bottiglia ci sarebbe anche un video in cui si vede una persona lanciare una bottiglia incendiaria gli investigatori hanno già ascoltato diversi testimoni a partire dai genitori delle vittime hanno raccontato che qualcuno li aveva già minacciati ma non si sa chi o perché forse una vendetta tra nomadi loro in quella zona ci stavano da settimane prima in un posto poi in un altro dalla questura arriva un messaggio chiaro l'unica pista che possiamo escludere è quella razziale una frase secca con tono deciso bisogna rimanere ancorati ai fatti dicono gli investigatori e i fatti sono orribili un crimine che è al di sotto del genere umano lo definisce il presidente della repubblica Sergio Mattarella perché quelle vittime erano solo delle bambine a cui la famiglia Roma ha pensato anche il pontifice che ha inviato un alto prelato a portare un saluto ma anche un aiuto concreto sul luogo del rogo qualcuno ha lasciato delle rose rosse con un biglietto mi sento in colpa pure io c'è scritto al di là dei toni al di là degli aspetti toccanti restano le questioni di fondo sui luoghi da segnare alla presenza di chi non ha fissa dimora e lo sceglie come modo di vita cioè la comunità Roma non stanziale ma anche cosa fare rispetto a quell'area di illegalità che si lega anche a una parte della comunità Roma sono questi i problemi di sempre è inutile fare le frasi fatte ma anche alzare i toni senza prima sapere che questa poi in fondo è la questione la questione che abbiamo davanti ed è totalmente irrisolta altro che i rifiuti con tutto il rispetto andiamo però ora a seguire quello che è successo al di là dell'Atlantico questa notte era mezzanotte in Italia Trump ha annunciato che avrebbe silurato immediatamente Comey il direttore dell'FBI la più nota delle istituzioni forse americane come era impegnato nel tentare di mettere in piedi una commissione speciale per indagare sulle commissioni russe nella campagna elettorale che aveva portato proprio alla vittoria di Trump per questo ovviamente il suo licenziamento fa rumore Non stava facendo un buon lavoro stiamo già cercando un nuovo responsabile poche parole una lettera di licenziamento firmata dal presidente degli Stati Uniti è James Comey il capo dell'FBI è stato mandato a casa con sei anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista nel 2023 L'ufficio da lui diretto da tempo stava indagando tra le altre cose anche su Russia Gate cioè sui presunti legami che ci sarebbero stati tra Mosca e alcuni responsabili della campagna elettorale di Donald Trump ma James Comey era anche l'uomo che pochi giorni prima del voto di novembre aveva reso pubbliche nuove mail che Hillary Clinton aveva inviato da un server privato mentre ricopriva la carica di segretario di Stato mail che nulla aggiungevano alla mole di quelle già pubblicate come lo stesso Comey ebbe a dire ma la tempistica fu quantomeno sospetta e sono in molti a pensare che quella scelta abbia condizionato più di un elettore contribuendo alla vittoria di Trump la clamorosa decisione del presidente di licenziare Comey ha lasciato di stucco repubblicani e democratici e ha sollevato polemiche e scatenato opinionisti e commentatori a nessuno è sfuggito che oggi il presidente ha incontrato separatamente Henry Kissinger e il ministro degli esteri di Mosca Lavrov Kissinger era segretario di Stato quando Nixon ordinò il licenziamento del procuratore Archibald Cox che indagava sul Watergate sempre Nixon aveva provato a mandare a casa Edgar Hoover l'uomo che trasformò e guidò l'FBI riempiendo negli archivi di dossier segreti grazie ai quali sembra che si è riuscito a mantenere il potere quasi assoluto per 50 anni storie che hanno dato vita a libri e film che oggi sono tornate d'attualità con il licenziamento di Comey che solo pochi giorni fa il primo maggio aveva chiesto più fondi per continuare ad indagare su Russiagate l'ex ormai capo del bureau era attesa ad una cerimonia a Los Angeles quando è arrivata la notizia della sua destituzione è toccato alla sua assistente annunciare che Comey non sarebbe stato presente e tutta fretta ha fatto marcia indietro è salito prima su un'auto poi su un aereo per tornare a Washington ma la decisione era già presa era il momento di un nuovo inizio ha commentato il vicepresidente Pence gli americani possono continuare ad avere fiducia nell'FBI Poco fa dalla Casa Bianca si è detto durante il briefing serale che era attesissimo della portavoce della Casa Bianca stessa che non ci sarà nessun investigatore speciale nessuna commissione speciale per indagare sulla questione sulla possibile ingerenza da parte russa nel processo democratico elettorale americano che ha portato l'8 novembre proprio alla vittoria di Donald Trump ma bisogna bisogna aggiungere che essendo oggi proprio il giorno dell'incontro tra Lavrov Tillaston e anche Donald Trump non era certo il giorno migliore per questa polemica vedrete che nei prossimi giorni questa crescerà e come di tono e secondo molti commentatori questo è davvero il primo pesante banco di prova per l'amministrazione di Donald Trump noi torniamo dall'Atlantico al Mediterraneo perché ancora oggi c'è stata un'altra puntata di questa ennesima e interminabile vicenda del come sapete del rapporto tra ONG e migranti e del rischio di commistioni con i trafficanti le accuse sono state lanciate da magistrati e da organizzazioni internazionali si è parlato dopo che la procura di Trapani aveva emesso i primi avvisi di una svolta di una prova della commissione ma proprio oggi il procuratore regente di Trapani ha spiegato che le organizzazioni non governative non sono indagate la distinzione non è di poco conto le indagini della procura di Trapani in tema di soccorso in mare dei migranti non riguardano alcune organizzazioni non governative ma alcune singole persone legate o appartenenti alle ONG lo ha precisato il procuratore reggente di Trapani Ambrogio Cartosio in audizione davanti alla commissione difesa del senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva in via di conclusione con cui il Parlamento intende far luce sulle modalità di controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo quelle della procura di Trapani sono indagini che riguardano un possibile reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ha detto il magistrato qualcosa di più specifico rispetto alla mera ipotesi di lavoro di cui ha parlato nei giorni scorsi e ha più riprese il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che ha puntato il dito contro il ruolo forse opaco di alcune ONG rispetto all'aumento dei flussi di migranti dice invece Cartosio le navi dei volontari sanno dove soccorrere i barconi in certi casi accertati lo hanno fatto senza avvertire la Guardia Costiera italiana a cui spetta il coordinamento dei soccorsi che vi sono casi in cui soggetti che si trovano a bordo delle navi sono evidentemente al corrente del luogo e del momento in cui si troveranno delle imbarcazioni sulle quali arrivano migranti nel corso dell'audizione Cartosio che ha confermato come anche la mafia si è interessata al business dell'accoglienza ha detto che non risultano contatti telefonici diretti tra trafficanti e ONG e non ha specificato a quali organizzazioni siano legate le persone su cui si sta indagando potrebbe trattarsi di ONG straniere tra le tante presenti nel Mediterraneo e tra quelle che hanno effettuato operazioni di soccorso in mare nell'autunno del 2016 il periodo in cui è partita l'inchiesta e ha aggiunto che intervenire in mare in soccorso è un obbligo secondo il settimanale Panorama i pubblici ministeri di Trapani indagherebbero sul ruolo di medici senza frontiere in una nota MSF afferma che non è mai stata contattata dalla procura di Trapani per chiarimenti sulle sue attività in mare basate su principi umanitari e perfettamente in linea con le leggi nazionali e internazionali l'orgoglio e il ruolo delle ONG è stato rivendicato da quelle riunite con il forum del terzo settore di fronte al Parlamento le generalizzazioni dicono fanno male al lavoro di tanti volontari che ogni giorno anche oggi si adoperano per salvare le vite in mare e per affrontare le cause strutturali delle migrazioni abbiamo visto tante storie questa sera che impattano anche con la politica ma la politica in quanto tale ha un appuntamento da cui non può prescindere quello della scelta di una legge elettorale per andare finalmente poi al voto ebbene il fatto di oggi è che Forza Italia è uscita dall'angolo e si è detta a favore dell'Italicum quello che è uscito ridimensionato come sappiamo dalla sentenza della Corte Costituzionale l'Italicum nel tripolarismo e con una alta soglia per il premio di maggioranza vuol dire di fatto il proporzionale puro e a quanto pare il PD ha accusato il colpo il fronte del no batte un colpo in commissione alla Camera dove si discute la legge elettorale si è creato a sorpresa un fronte favorevole ad un testo che parta dall'Italicum modificato dalla consulta da estendere anche al Senato sul modello ribattezzato dai 5 Stelle Legalicum un sistema proporzionale con premio di maggioranza la lista che raggiunga il 40% e soglia di sbarramento al 3% si sono detti favorevoli oltre gli stessi grillini sia gli ex PD di articolo 1 MDP sia Forza Italia con adesioni anche da Lega e Fratelli d'Italia ossia gran parte del fronte schierato con il no al referendum del 4 dicembre una possibile maggioranza che attende di capire cosa farà il PD il presidente della commissione affari costituzionali Andrea Mazziotti ha incontrato tutti i gruppi per poter arrivare domani alla presentazione di un testo base il più possibile condiviso ma all'appello mancano proprio i dem l'incontro doveva esserci oggi ma è slittato a domani il PD non ha ancora deciso quale proposta sostenere dopo le tante ventilate finora e di fida della maggioranza trasversale che si è venuta a creare anche perché ogni forza ha i suoi paletti MDP chiede di eliminare i capilista bloccati previsti all'Italicum e non cancellati dalla consulta stessa richiesta dai 5 Stelle pronti però a risolvere la questione attraverso le parlamentarie la scelta in rete dei capilista Forza Italia ha invece sempre chiesto il premio alla coalizione e non alla lista e la novità di oggi ha indispettito non poco un pezzo di partito se c'è un cambio di linea sulla legge elettorale serve prima un confronto dice il capogruppo al Senato Paolo Romani chiedendo di rimandare qualsiasi decisione al vertice previsto domani con Silvio Berlusconi il suo omologo alla Camera Renato Brunetta replica la linea sulla legge elettorale è quella di Berlusconi che in un'intervista al panorama aveva già bocciato l'asse privilegiato con il PD sulla riforma elettorale così come suggeriva il ministro Franceschini non vedo le condizioni perché si possa riproporre oggi un patto del Nazareno le parole del leader di Forza Italia non esiste un accordo con il PD in funzione difensiva contro il partito di Grillo noi puntiamo a vincere con le nostre idee e i nostri progetti e di queste questioni ma anche delle altre aperte con la vicenda Etruria Boschi si parla stasera in 8 e mezzo con Lilli Gruber ci sono infatti Dario Nardella sindaco PD di Firenze e Danilo Toninelli rappresentante esperto di legge elettorale del Movimento 5 Stelle poi è mercoledì c'è la gabbia e con Gianluigi Paragone ci sono Pierluigi Bersani Sandro Gozzi Federico Rampini Barbara Lezzi Peter Gomez Vittorio Feltri e Antonio Di Pietro noi ci fermiamo Allora c'è un ultimo aggiornamento che riguarda la vicenda del sinuramento da parte di Trump del direttore dell'FBI e Comey perché James Comey sarà ascoltato martedì prossimo in una riunione a porte chiuse della commissione Intelligence del Senato americano e questo sarà un passaggio importante vi ho detto nuvoloni nell'orizzonte all'orizzonte di Washington perché questa vicenda avrà strascichi e come intanto noi andiamo invece come sempre in conclusione di giornale alle borse Milano ha chiuso in positivo più 0,31 come vedete al cartello contrastato in questo momento Wall Street infatti il Dow Jones sta perdendo lo 0,33 in Nasdaq guadagna lo 0,08 è tutto Gruber e poi Paragone noi ci vediamo domani sera buonasera